siamo in diretta dal bivio d'arroccolo 194 metri sopra il livello del mare i 200 metri che fanno la differenza attacca con piacere come potete vedere già un accumulo di un centimetro e mezzo due per la strada non c'è nessuno sono tutti spariti ecco qui inizio in biancare anche in strada adesso a castelnuovo staranno chiedendo pietà da quanta neve arriverà uno spettacolo incredibile delirio nevoso delirio nevoso da altri tempi